Giornata particolare, il Consiglio regionale gira per le varie province e oggi è nella sua provincia, provincia di Bergamo. Oggi nella nostra provincia ci ha fatto molto piacere la presenza ovviamente del Presidente di Regione Lombardia, o meglio del Consiglio regionale della Lombardia, Raffaele Cattaneo, in quanto gli abbiamo, non solo noi ma anche le istituzioni, esplicitato un po' quelle che sono le problematiche del territorio, che come più o meno tutte le istituzioni bergamasche gli hanno fatto ricordare, sono il lavoro, il trasporto, una certa difficoltà da parte delle imprese, andare avanti e via dicendo. Quindi penso una giornata interessante, importante, una giornata che ovviamente noi sapevamo quali erano le esigenze del territorio, ma ci ha fatto piacere che prendesse visione anche il Presidente del Consiglio, così quando parleremo delle problematiche bergamasche in Regione Lombardia, il Presidente avrà ben focalizzato quale zona della Lombardia si tratta. Tanto problematiche diverse, qui siamo a Bergamo, in città, ma ci sono anche le valli con problematiche diverse. Assolutamente sì, diciamo che forse più di tutte quelle che stanno soffrendo in questi momenti sono le vallate, perché le vallate, soprattutto alcune vallate bergamasche, che avevano la loro attività soprattutto nel tessile, il che ha avuto una crisi notevole e come ho avuto modo di ricordare al Presidente, alcune eccezioni e eccellenze che oggi potrebbero produrre lavoro sono bloccate dalla mancanza di credito da parte degli istituti bancari. Questo è un problema molto grave, non so se Regione Lombardia riuscirà a risolverlo, però come ha fatto quel bellissimo, diciamo, impresa, quello del credito in cassa che ha messo a disposizione un miliardo di euro per quelle imprese che erano creditrici dalle pubbliche amministrazioni, magari Maroni si inventerà qualcosa anche per aiuto a questi piccoli imprenditori. Poi ci si è parlato anche della difficoltà dei trasporti, l'asse Bergamo-Milano, soprattutto per quanto riguarda la ferrovia, non è così ben servita? Allora, così ben servita è già un qualcosa di celestiale, diciamo che per usare un eufemismo fa quasi paura, nel senso che noi nonostante tutte le proteste che tutti i consiglieri regionali bergamaschi in modo trasversale, non c'è né sinistra né destra, ma tutti in modo trasversale in questi ultimi mesi hanno sollecitato, sembra quasi una ricaduta negativa piuttosto che positiva perché al di là di alcune affermazioni che l'assessore del Tenno giustamente aveva fatto, non dimentichiamo che l'assessore del Tenno forse è venuto in incognita a fare questa tratta. Peccato che il giorno dopo che l'assessore è arrivato i treni da 6 erano passati a 7, poi a 8 per ritrovarci ancora l'altro giorno con 4 o 5 treni senza riscaldamento. Ci hanno detto di portare pazienza perché molto probabilmente tutto inizierà a migliorare a maggio, visto considerato che dovrebbero arrivare questi 60 treni nuovi per cui ci sarà un turnover dei treni e speriamo che ce ne mettano qualcuno dei nuovi, di sicuro la pressione noi consiglieri bergamaschi in Regione Lombardia la faremo e la faremo forte perché è una tratta disastrata.